Buonissimo, è una scritta dedicata ad un amico che esattamente oggi, sette anni fa, ci lasciava. Ciao Silvio, un abbraccio anche a te. Pronto a partire le altre tre? E sarà ora il turno di Carlo Scigliano su una Renault Cleo Williams. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.